Ugo von Hofmanstal Poi è stata anche rimaneggiata e risistemata. Mentre qua così possiamo vedere una fotografia di Ugo von Hofmanstal giovane. Lui era nato a Vienna nel 1875 da una famiglia aristocratica. Ingegno precoce, educato alle lettere, alla musica e all'arte, esordisce giovanissimo quindi nella poesia. In Germania frequenta assiduamente la Kreis di Stefan Georg, del quale subirà al pari di altri un notevole fascino, ma dal quale tuttavia si separerà presto in modo brusco, considerandolo persona ambigua e pericolosa. A partire dal 1902, Hofmanstal abbandona una poesia, si dà al teatro, alla librettistica, collaborando tra gli altri con Richard Strauss. Tant'è vero che molti lo conoscono quasi più per le sue opere teatrali, insomma le lettere, oppure appunto per i libretti e per la collaborazione con Strauss. Hofmanstal è stato un poeta decadente simbolista. Nella sua poetica viene ricercata la bellezza della parola. Si cerca di andare oltre il significato delle parole. Cioè, l'obiettivo è quello di trovare uno stato di purezza superiore. Ecco, ovviamente questo è il periodo della poesia simbolista e decadente. E Ugo von Hofmanstal si inserisce perfettamente all'interno di questa stagione particolare. E anche il periodo, se vogliamo, della, chiamiamola così, belle époque, viennese, oltre che parigina. Nel senso che sono anni di euforia questi, quelli che precedono la prima guerra mondiale. E sono anni in cui Vienna è un centro culturale importantissimo. Dobbiamo dire che sono tanti anche gli scrittori che rappresentano quest'epoca. Oltre a Ugo von Hofmanstal ricordiamo Josef Roth, del quale abbiamo letto La cripta dei cappuccini. Proprio questo bellissimo romanzo che rappresenta, diciamo, la decadenza di questa stagione. E abbiamo letto anche La marcia di Radetzky, vi ricorderete insieme, l'abbiamo commentata, che ci racconta invece una generazione precedente. E poi, insomma, ci sono anche altri poeti, diciamo, poi ci sono artisti, pensate appunto poi alla nascita della psicologia con Freud, è sicuramente un ambiente vivace quello di Vienna. Un tema ricorrente nella poesia di Ugo von Hofmanstal è il superamento del transeunte, cioè di ciò che è materiale passeggero, in direzione dell'eterno. Il passaggio, quindi, dall'essere al divenire. Hofmanstal avverte la provvisorietà di ogni cosa e condizione umana, la provvisorietà del presente, e intende proiettarsi in un futuro. Per lui vita e morte non sono nettamente separati, ma sono due mondi che si confondono e hanno confini sfumati. Il punto di contatto tra queste due realtà è la dimensione onirica. Ecco il motivo per cui molte delle sue poesie sembrano quasi rappresentare i sogni. Abbiamo deciso di usare come sfondo delle nostre slide questo dipinto di Arnold Böcklin, Rovine sul mare, del 1880, che si trova adesso in una cittadina della Svizzera, ad Arau, perché ci sembra possa rappresentare questa stagione. Una stagione della poesia che sembra in un certo qual modo ritornare anche ad alcuni aspetti della grande poesia romantica tedesca, ve la ricorderete, quella di, ad esempio, facciamo due nomi per tutti, Erlderlin e Novalis, in questa nuova stagione, appunto, simbolista e decadente. Ecco perché mi ho scelto questo sfondo per i versi di Ugo von Hofmannstall. Incominciamo a leggere proprio una poesia che è fatta, insomma, di strofe di cinque versi, che è la poesia Erlebnis. Erlebnis è una parola tedesca che ha molte connotazioni, è una parola ricca di significati e di connotazioni. Potremmo tradurla come esperienza, ma qualcun altro la traduce anche come avventura. Compare nelle sue opere già giovanili, nel 1892, pensate, quando il poeta è ancora diciottenne, nel suo libro Blatter für die Kunst. Il titolo, appunto, vi dicevo, Erlebnis, è di difficile traduzione, datti i molti significati che assume nei vari contesti questa parola. La si può tradurre anche con ricordo, anche con attimo, attimo fuggente, chiamiamolo così, anche con epifania, quindi rivelazione, oltre che con avventura e esperienza. È un sinonimo di Erfarung. Il termine Erlebnis ha un'origine etimologica da Leben, che vuol dire proprio vivere. Il cuore di questa poesia è il passaggio dalla vita alla morte. Quel passaggio è così sfumato, è così importante, decisivo e significativo, come abbiamo già spiegato, per Hugo von Hofmannsthal, dove per morte non si intende quella fisica del corpo, ma uno stato di profondissima nostalgia nei confronti della vita, che il poeta non sa vivere appieno la vita, gli sfugge. Il poeta, dunque, è in vita, ma dentro di sé vive un'esperienza paragonabile a quella della morte. Erlebnis. La valle aveva un profumo grigio-argento. Il crepuscolo si incontra come se la luna sbirciasse tra le nuvole, ma non era notte, con un profumo grigio-argento della valle oscura. Una serie di immagini, quindi, costituiscono l'esordio di questa poesia. La valle è trasparente, anzitutto, come quando la luna filtra tra le nuvole, eppure non era ancora notte. Chiaramente non si parla, non è una descrizione di un paesaggio reale, ma una proiezione dell'io del poeta. Il contrasto vita-morte pare confermato dalla descrizione di un paesaggio con tremori notturni. Non era notte, con un profumo grigio-argento della valle oscura, mit silbergrauenduft des dunklen tales. I pensieri svaniscono, il poeta passa dalla veglia al sonno. La valle aveva un profumo, era pervasa da questo vapore grigio-argento, come quando la luna filtra tra le nuvole, come se la luna sbirciasse fra le nuvole. Viven der mond durch Wolken Siegert. Ma non era la notte. Doch est war nicht nacht. Questo non era affatto, non era per niente la notte, no? Potremmo anche tradurle così. Nicht nacht, no? Ovviamente è molto più bello anche leggere un po' anche in tedesco, dovete sapere che il tedesco è una delle lingue più musicali che ci siano se pensate alle romanze di Schubert, per esempio. I miei pensieri crepuscolari svanivano man mano con quel vapore e io abbandonai la vita sprofondando in un mare trasparente. Questo però è una parafrasi dei versi successivi. Andiamo quindi a leggerli proprio. I versi successivi. verspammen meine dämmerden gedanken und still versank ich in dem webenden. I miei pensieri nascenti si offuscaro e silenziosamente sprofondai nella tessitura, nella trasparenza, nei mari trasparenti. Wurksigden mere und verliss das Leben e vita abbandonata verliss das Leben. Insomma, come stavamo dicendo, i pensieri svaniscono e il poeta passa dalla veglia al sonno. La vita è abbandonata, no? Che fiori meravigliosi c'erano! Vi wunderbare blumen varem da buio bagliore di calici mit kelken dunkel glühend boschetti di piante e qui c'è un nome composto, lo sapete che in tedesco ci sono nomi composti anche parecchio difficili da insomma da pronunciare una cosa tipo flanzen dickit però ci vorrebbe proprio qualcuno che sapesse pronunciarlo meglio in tedesco in pratica in quel mare in quel mare trasparente ho visto dei fiori mirabili che si aprivano in corolle scure e brillanti come un fuoco buio bagliore di calici le immagini sono più incredibili ancora di quelle precedenti corolle luce fulva folte liane poschetti di piante la situazione quindi è perfettamente onirica un vero e proprio sogno lui ci sta rappresentando un sogno il giovane diciottenne Ugo von Hofmann stalla riesce a rendere in questa poesia una sorta di sogno attraverso una luce giallorossa prima ricorderete all'inizio il grigio argento adesso giallorosa come di topazzi in flussi caldi penetravano e brillavano che vuol dire insomma quelle crolle scure brillanti come il fuoco di cui vi stavo già parlando parlando prima queste immagini che si generano insomma l'una dietro l'altra il tutto era pieno di un profondo gonfiore das ganze war agenfüllt mit einen tiefen schwellen musica triste schwermütiger musik schwermütiger musik musik triste e questo lo sapevo anche se non lo capivo ma lo sapevo obgleich un dieses wust ich io questo dieses lo sapevo io ich lo sapevo wust obgleich ich nix begreife anche se non lo capisco doc ich wust es io lo sapevo io questo lo sapevo insomma dai raggi di una luce bionda penetravano in calde correnti come delle liane dappertutto suonava intensamente una musica dolente io sapevo che ciò che stavo vivendo era sapevo che cos'era forse la morte ecco la morte come abbiamo spiegato prima non nel senso proprio fisico del termine ma la morte nel senso di un'esperienza di morte ecco erlebnis esperienza di morte un'esperienza quantomeno paragonabile a quella della morte l'immagine della valle ricompare ma anziché materializzarsi si smaterializza la musica rende tutto ancora più immateriale sfumato la musica dolente triste il mare è una foresta di fiori di liane di luce le sue correnti sono la luce le onde sono musica dolente il poeta cerca di capire in che cosa consiste questo paesaggio e in fondo lo capisce lo sa conferma che è proprio la morte Das ist der Tod questa è la morte lo dice chiaramente esplicitamente è diventato musica der ist music geworden possente desiderio gewaltig senend dolce e oscuro splendore sost un dunkel glühend legato alla malinconia più profonda verwand der tiefsten schwermut ma strano aber seltsam una nostalgia senza nome e in ein namenloses einw piangeva silenziosamente weinte lautlos ecco ecco quindi che quella musica soave ardente era il suono di una tristezza grave è legato alla malinconia più profonda abbiamo letto no? ma strano una nostalgia senza nome piangeva silenziosamente sentivo insomma dentro di me un rimpianto della vita muto e senza nome lo stesso che sente qualcuno che si trova su una nave che passa davanti alla sua città natale dirà immediatamente dopo insomma non è una morte angosciosa la morte per ugo von hofman stahl non è un'esperienza angosciosa ma è come una specie di musica triste con note dolenti la vita è stata abbandonata solo dall'anima del poeta ma un'anima cosciente consapevole il trapasso non è una vera morte in realtà è un sogno una situazione onirica dominata dalla nostalgia ho assistito alla mia morte ma sento ancora il rimpianto della vita nella mia anima dopo la vita pianse come si piange quando si è su una grande nave marittima con gigantesche vele gialle verso sera sulle acque blu scuro della città la città natale passa lì vede in meiner seele nella mia anima nach dem leben dopo la vita weinte pianse come uno piange insomma come si piange diciamo impersonale quando si è su una grande nave venner aus großen seeschift con gigantesche vele gialle verso sera mit gelben riesenselgen gegen abendu sulle acque blu scuro della città auf dunkelblauen Wasser an der Stadt der Watterstadt la città natale passa worüber fert da siegt ecco ci fermiamo un attimo insomma abbiamo un'esperienza particolare che è quella di vedere le strade della città sentire il fuscio i rumori della città insomma un'esperienza di abbandono dei ricordi il senso di strazio nel lasciarli le strade ecco è collegato con la strofa precedente da siegt er die gassen lì vede le strade ascolta il mormorio delle fontane olt di brunnen rausken odora il profumo dei cespuli di lilla riecht der duft der flieder busche vede se stesso un bambino sicht sich selber un bambino ein kind in piedi sulla riva am ufer stehen con occhi da bambino mit kindesaugen chi ha paura e vuole piangere die ängstlich sind und weinen wollen vede sit attraverso la luce della finestra duks offne fensterlicht aperta nella sua stanza in seine zimmer ecco quindi l'esperienza dell'abbandono dei ricordi il senso di strazione lasciarli il poeta è come un bambino che vorrebbe partire su una nave ma una volta salito la nave sarebbe una specie di metafora della morte sente lo strazzo dell'abbandono vuole tornare indietro nella vita l'esperienza evocata dal titolo Erlebnis non è altro che la nostalgia per una vita che sfugge che il poeta non è stato in grado di vivere e ha 18 anni che quando scrive questa poesia è la fuga da qualcosa che il soggetto non ha mai posseduto non ha mai vissuto diciamo pienamente la morte significa in questo caso nostalgia dell'esistenza vita e morte sono compresenti quindi nel pieno della vita c'è dentro di noi come un un barbaglio insomma della morte e quando sembriamo proprio abbandonarci alla morte in realtà è lì che proviamo la più grande nostalgia della vita il poeta vede le strade sente il fruscio delle fontane sente il profumo dei fiori il profumo dei cespugli di lilla le strade vede le strade ascolta il mormorio delle fontane odora il profumo dei cespugli di lilla e poi soprattutto ecco il flashback vede se stesso bambino quindi si ricorda ecco il ricordo Erlebnis infatti abbiamo detto che è una parola che ha tante connotazioni potrebbe anche significare ricordo vede se stesso bambino in piedi sulla riva con gli occhi da bambino quando appunto sul molo vedeva le navi passare e desiderava partire ma ora quella nave lo porta lontano perché come abbiamo spiegato prima potrebbe rappresentare la morte ora ha paura vuole piangere vede attraverso la luce della finestra aperta nella sua stanza vede appunto dicevamo questa nave ah ci sono gli ultimi versi della poesia ma la grande nave marittima lo porta avanti das grosse seeschiff abertrecht in weiter scivolando silenziosamente sull'acqua blu scuro auf dunkelblauen Wasser lautlos gleitend mit gelben con vele giganti gialle fremgeformen a forma di straniero riesen segel sono appunto queste immagini della nave che lo porta via lontano che lo porta avanti scivolando silenziosamente a forma di straniero quindi che lo porta in un'altra dimensione che lo porta verso questa terra da sogno che potrebbe essere però anche abbiamo detto la morte vista non come qualcosa di così negativo anzi da un poeta così decadente e simbolista come Ugo von Hofmannstall leggiamo adesso una poesia che lui ha scritto appena qualche anno dopo avrà avuto circa un 21 anni la ballata della vita esteriore ha scritto parecchie ballate anche questa poesia compare nella stessa raccolta della poesia Erlebnis che abbiamo letto prima il linguaggio è legato a moduli stilistici e metrici tradizionali anche linguistici tradizionali ma Hofmannstall esprime nel senso tutto decadente di estraneità di inappartenenza Ugo von Hofmannstall è più grande forse poeta simbolista di questa stagione in questa lingua la lingua tedesca così come contemporaneamente lo è Pascoli nel grande poeta simbolista nella lingua italiana decadente dicevano i poeti francesi ricordate che abbiamo abbiamo parlato di Verlaine l'altra volta l'impero alla fine della decadence l'impero alla fine della decadenza l'impero tardo degli ultimi tempi in questo periodo dei fini ottocento l'Austria stava proprio vivendo sulla propria pelle materialmente la fase di un impero alla fine impero in decadenza proprio come era accaduto ai tempi dell'impero romano in declino in crisi è una decadenza politica lenta ma della quale alcuni hanno consapevolezza i teorici decadenti descrivevano qualcosa che era estremamente simile a quello che era accaduto durante l'impero romano l'impero asburgico era infatti in procinto di crollare e quello ve l'abbiamo già ricordato che viene rappresentato in campo narrativo da Iosef Roth in questi bellissimi romanzi che abbiamo letto la marcia di Radetzky e soprattutto la cripta dei cappuccini il cuore di questa poesia è l'instabilità l'inutilità di fondo della vita l'angoscia che segue questa consapevolezza ecco Rilke Rilke il grande altro poeta di questo periodo la vita è vissuta come nostalgia più che euforia o vitalismo d'annunziano diciamo della vita Ugo von Hofmann installa esprime la nostalgia della vita perché questa ballata si chiama ballata della vita esterna esteriore è esterna nel senso di ciò che materialmente accade nel mondo ballata allude al ritmo del testo tutto basato su figure di ripetizione questa volta non abbiamo rinvenuto il testo originario tedesco peccato avete visto come è stato bello comunque magrado la mia grossolana pronuncia leggere anche il testo originario al fianco però possiamo capire questo andamento anaforico queste congiunzioni per esempio all'inizio di ogni verso è una specie di giostra attraverso questa poesia il poeta vuole rappresentare una giostra vana e inutile perché l'esistenza è intesa così come una giostra vana una giostra inutile e crescono bambini dai profondi occhi che nulla sanno crescono e muoiono e tutti gli uomini percorrono la loro via ecco dicevamo questo senso di inutilità della vita questo questo ciclo che si ripropone con dei bambini che crescono che nascono che muoiono eccetera che percorrono una strada che però è una strada abbiamo detto senza senso senza significato i bambini però dice con occhi profondi ma in realtà non sanno mai nulla nulla sanno mentre tutti camminano per la loro strada percorrono quindi la loro la loro via e dolci divengono i frutti acerbi e di notte cadono a terra come morti e per poco vi giacciono prima di marcire i frutti acerbi maturano diventano dolci e poi cadono durante la notte come uccelli morti giacciono a terra e dopo pochi giorni marciscono quell'immagine ciclica che prima nella prima strofa insomma prima terzina è tutta una poesia composta di terzini questa era riferita ai bambini agli uomini quindi bambini che diventano uomini che percorrono la loro strada che crescono e che muoiono adesso in questa seconda strofa viene riferita ai frutti c'è un'analogia però perché come gli uomini crescono nascono crescono e muoiono così anche i frutti prima sono acerbi poi sono maturi e poi marciscono e cadono c'è una sorta di fenomenologia della vita dell'esistenza che ritorna uguale ciclicamente durante la notte cadono questi frutti che prima erano acerbi poi diventano maturi marciscono come morti uccelli c'è una similitudine come gli uccelli morti cadono anche loro giacciono a terra e dopo pochi giorni marciscono non si tratta di una rappresentazione così scientifica del principio di laoisier si tratta di una profonda riflessione sulla caducità della vita umana e della vita in genere e sulla terra e sempre soffia il vento e sempre di nuovo ascoltiamo e diciamo tante parole e proviamo gioia e torpore nelle membra il vento soffia in continuazione e noi in continuazione sentiamo e pronunciamo discorsi sentiamo nei nostri corpi il piacere e la stanchezza gioia e torpore nelle membra ancora la vita viene rappresentata nella sua fenomenologia in tutti i possibili aspetti e nelle trasformazioni per esempio i momenti di gioia e di torpore quindi di vitalità nel senso gioia nel senso proprio di piacere di voglia di vivere e di torpore di stanchezza di debolezza appunto di decadenza e strade corrono attraverso i campi e luoghi vi sono qui e là pieni di luci d'alberi di stagni ora minacciosi ora spettralmente aridi e e e insomma questa ripetizione dicevamo anaforica della congiunzione all'inizio dei versi le strade attraversano i prati i campi e ci sono luoghi pieni di luci d'alberi e di stagni paludi piante cose aride però anche cose vive ora minacciosi ora spettralmente aridi vita e morte anche in questa poesia convivono come in un continuo ultrapasso l'una l'una nell'altra l'altra nell'una la vita nella morte e la morte nella vita perché esistono e mai uguali gli uni agli altri e sono di numero infinito che cosa alterna il riso il pianto il pallore insomma qual è lo scopo qual è il senso perché così tante cose mai uguali l'una all'altra mai uguali gli uni agli altri perché esistono luci alberi stagni questo è il cuore della poesia la riflessione vera e propria a cosa serve tutto questo questo avvicendarsi di stagioni questo avvicendarsi di ere di età dell'uomo e della natura insomma sono domande retoriche sono domande che non hanno una risposta perché esistono e mai uguali gli uni agli altri e sono di numero infinito che cosa alterna il riso il pianto il pallore che senso ha questa alternanza di riso di lacrime il pallore a che ci giova tutto questo e questi giochi a noi che siamo adulti ed eternamente soli e pur vagando cerchiamo ancora una meta qual è il vantaggio di questo gioco eterno di questo ciclo eterno di questo alternarsi eterno di situazioni di condizioni per noi che siamo travolti da questo andamento circolare senza uno scopo nonostante anche la nostra grandezza eternamente soli adulti cerchiamo ancora una meta insomma una serie di domande che si susseguono anche queste con un tono di anafora di ripetizione di cantilena che conferma il ritmo della ballata sono le domande dicevamo senza risposta con un finale misterioso bakof studioso di mitologia antica propone una soluzione la soluzione potrebbe essere questa che ci sia insomma un ciclo che mette insieme la sera e l'aurora la stella della sera rimette insieme ciò che l'aurora aveva separato la mattina è il momento in cui tutti si alzano e si affannano e quindi si dividono si separano la sera è il momento del raccoglimento in cui la dispersione viene ricomposta questa ricomposizione avviene anzitutto per mezzo della parola che nel dare un nome dà anche un senso e un ordine alle cose e questo lo vediamo in quest'ultima parte della poesia che giova aver visto così tante cose eppure dice molto chi dice sera parola che un senso profondo e dolore stilla come greve miele dal cavo di un alveare eppure chi dice sera dice una parola che è un senso profondo e doloroso un senso profondo e doloroso che cola come il miele da un cavo da un alveare dal favo di un alveare ecco quindi che questo finale di questa poesia la ballata della vita esteriore ci fa venire in mente altri poeti italiani per esempio che noi conosciamo molto meglio come ad esempio Ungaretti e la sua poetica della parola e nonché è Quasimodo con ed è subito sera oppure Foscolo con alla sera quindi questa fase che significativamente è anche una specie di metafora della fase della vita della vecchiaia si ricompone il tutto tutto quello che prima appariva disperso senza senso si ricompone e c'è qualcosa che può ricomporlo che è la parola ecco perché vi dicevo se vogliamo una specie di poetica della parola di stile ungarettiano anche in Ugo von Hofmannstall anche se ripeto Ugo von Hofmannstall ha un modo di scrivere diciamo piuttosto tradizionale stilisticamente parlando è piuttosto tradizionale insomma rispetto moduli linguistici e metrici sono decisamente tradizionali rispetto alla novità ad esempio dell'allegria della raccolta delle prime poesie insomma di Ungaretti la parola poetica dunque è l'unica possibilità di dare un senso alla realtà la realtà si disperde sotto i nostri occhi sembra non avere senso la realtà la vita esterna la vita esteriore sfugge compiendo il suo cammino di eterna trasformazione senza di noi al di là di noi indifferente a noi la poesia però ci consente di crearci una nostra realtà a misura d'uomo nella quale noi siamo i protagonisti eppure dice molto chi dice sera questa è un'interpretazione che tiene conto del senso più profondo della poesia simbolista una poesia pura una poesia che è addirittura in grado di di arrivare alla senso alla accogliere un senso profondo un significato profondo che non è possibile assolutamente cogliere con la scienza come gli uomini della fine ottocento ormai hanno hanno capito una poesia assoluta questa esigenza di rifondazione della realtà tramite le parole il mistero motivo cardine del decadentismo e in particolare del simbolismo e del simbolismo di Ugo von Hofmannstall è il mistero la sensazione di vivere in un cosmo in un mondo misterioso fatto di verità insondabili per l'uomo si traduce in questa poesia in un linguaggio misterioso allusivo dove le parole diciamo non vogliono chiarire vogliono semmai solamente offrire una parvenza non così chiara un riflesso ecco forse della verità le parole sono ambigue e quindi moltiplicano il senso di mistero che Ugo von Hofmannstall cerca di esprimere con la sua poesia benissimo abbiamo terminato questo bellissimo percorso insomma all'interno della poesia di Ugo von Hofmannstall e andiamo a leggere pertanto adesso i commenti dei nostri amici che differenza passa fra romanza musicale e romanza in quanto genere di libro beh romanza credo che sia più che altro una sorta di canzone però potrebbe anche essere componimento poetico a carattere epico lirico però è non narrativo non è un libro diciamo tipo un romanzo non confondiamo romanza al femminile con romanzo al massimo può essere una poesia può essere una poesia oppure un componimento musicale generalmente vocale e quindi comunque direi che questi due significati hanno una certa attinenza fra di loro come sappiamo insomma appunto la parola ballata nello stesso tempo può essere un tipo di poesia quella che abbiamo appena finito di leggere ma può essere appunto anche un componimento musicale una ballata c'è una voluta ambiguità ecco in questi tutti questi termini fra l'aspetto tra virgolette poetico e quello musicale ma non certamente un libro ecco non è un libro una romanza saluti a tutti Paolo Rossi non so se ho capito bene morte vuol dire rimpiangere l'infanzia la giovinezza come la vecchia del sabato del villaggio quando vede la danzelletta sì senz'altro ovviamente qua la prospettiva è una prospettiva però molto più sfumata più misteriosa meno chiara nel senso che Leopardi è un romantico che comunque ci rappresenta la nostalgia senz'altro in un modo però più logicamente comprensibile invece Ugo von Hofmannstall è un poeta simbolista che vuole ormai che si affaccia al novecento e quindi vuole oserei dire quasi programmaticamente andare al di là degli aspetti logici quindi con Ugo von Hofmannstall abbiamo ricorso al procedimento analogico che quindi è volutamente al di fuori della logica la nave rappresenta la destinazione finale la morte vera e propria può darsi anche in questo senso vale quello che dicevo prima c'è una voluta ambiguità cos'è una ballata in parole povere l'abbiamo già spiegato è sia un componimento che ha per esempio qui vediamo abbiamo visto delle terzine anche nella storia della letteratura italiana ci sono delle ballate che sono composte tutte quante di strofe che si ripetono uguali e quindi diciamo un genere senza ritornello a differenza della canzone che è una specie di ritornello ecco ricordo quella di Coleridge per esempio la ballata del vecchio marinaio lì eravamo appunto all'inizio del romanticismo dice Sara Barnaba amo queste atmosfere queste poesie simboliste queste poesie così volutamente misteriose grazie Sara Barnaba veramente belle queste due poesie che abbiamo letto di Hugo von Hofmannstahl veramente bello questo brano ci dice Melvin e quindi siamo contenti di aver fatto con voi questa questa lettura è